Grazie per scegliere l'informazione e la testata di Esperia TV e anche per vedere insieme a noi naturalmente questa edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare del ponte sullo stretto di Messina, molti fanno sarcasmo, ironia, strumentalizzano questo progetto però ce ne sono altrettanti, forse anche un po' di più che invece ci credono profondamente il governo nazionale, il ministro Salvini, tant'è che Pietro Ciucci è tornato a Messina e fra l'altro parla anche di Infopoint per cui potremo entrare nel merito della progettualità ci sarà anche un ufficio espropri perché come sapete insomma in questa fase del procedimento del percorso occorrerà avviare anche questo pezzo di attività amministrativa che riguarderà naturalmente coinvolgerà soprattutto i privati. Il nostro servizio. Ho preso un impegno e lo mantengo. L'interlocuzione con gli enti e le amministrazioni locali sarà costante. Pietro Ciucci è tornato a Messina. A Palazzo Zanca ha incontrato il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello e il direttore generale Salvo Puccio. Un confronto dal quale sono emerse due novità sostanziali. La prima, l'apertura dello sportello espropri che fra qualche giorno sarà allestito al Palacultura. La seconda, la pubblicazione, subito dopo l'indizione della conferenza dei servizi da parte del Ministero dei Trasporti, dell'avviso riguardante l'abbio del procedimento che culminerà con l'approvazione del progetto da parte del CIPES e con la dichiarazione di pubblica utilità che sancirà l'inizio ufficiale delle procedure espropriative. Il voto del Comitato interministeriale è previsto per il prossimo 30 giugno. Fino a quella data ci sarà una fase intermedia che consentirà a tutti gli interessati, spiega l'amministratore delegato della Stretto di Messina, di prendere visione della documentazione progettuale e formulare eventuali osservazioni. Lo sportello espropri avrà una funzione essenziale, così come gli Infopoint che la Stretto aprirà nei prossimi giorni sia a Messina sia a Villa San Giovanni, fornendo il supporto necessario per una chiara ed esaustiva analisi della documentazione progettuale. Altre strutture pubbliche, queste insomma un po' più piccoline sicuramente, forse anche più funzionali nel corto e nel medio periodo. Parliamo di istituti scolastici, in particolare del Gravina, partono i lavori anche del secondo blocco e fra l'altro oggi è arrivata anche la vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppe Princi, come sapete ha la delega proprio all'istruzione. Presentato a Parco Pitagora di Crotone il progetto del secondo lotto dell'Istituto Superiore Giovanna Vincenzo Gravina, nei giorni scorsi grazie alla provincia di Crotone, grazie al PNRR è partito il primo lotto. Il secondo lotto sarà finanziato per un importo di circa 3 milioni di euro dalla Regione Calabria. Sentiamo la vicepresidente Giuseppe Princi. Quanto mette la Regione per questo secondo lotto? Intanto abbiamo lavorato d'intesa con il presidente della provincia Ferrari che ha stanziato il primo lotto con oltre 2 milioni di euro, per cui partirà a breve la costruzione per concretizzare quello che è un diritto degli studenti, perché come dicono la scuola è il pilastro su cui si erge il futuro partendo appunto dal presente e quindi la Regione andrà ad implementare con ulteriori risorse che andremo ad inserire proprio nella nuova programmazione per finalmente dopo 60 anni riuscire a concretizzare questi diritti negati e per troppo e per lungo tempo e che oggi finalmente con un governo regionale a guida del presidente Occhiuto che ha messo tra le priorità proprio l'edilizia scolastica e con una comunità partecipe e stimolante che è rappresentata dalla provincia, dal presidente Ferrari a livello politico e da un dirigente scolastico qual è il dirigente Antonio Santoro che è vicino ai ragazzi e vicino all'interesse della collettività tutta, per cui è una bella pagina. Abbiamo dimostrato quanto la squadra, il lavorare d'intesa, il rendere protagonisti di studenti perché gli studenti attraverso una cartellonistica importante stanno proprio rappresentando questa gioia nel vedere comunque concretizzato un sogno ma anche un essere vigili a quelli che saranno i risultati per cui noi istituzioni ci impegniamo tutti insieme a concretizzare da qui ai prossimi anni. Sentiamo qual è il commento di alcune studentesse proprio del Gravina. Finalmente avrete una scuola? Speriamo di sì. Voi avete una scuola con tanti plessi, è un po' complicato. Abbiamo cinque plessi e questo comunque ci ha diviso perché non possiamo stare insieme tutti i giorni alla ricreazione, quando entriamo, quando usciamo, però abbiamo deciso di scegliere questa scuola anche per la didattica. Oggi è una bella giornata per la vostra scuola? Sì, perché finalmente riusciamo ad avere un diritto di avere una scuola come giusto che sia e stiamo cercando di raggiungerlo. Che si dice al Gravina? Con questa situazione abbiamo un po' di disagio ma speriamo che ci daranno finalmente questa scuola. La vicepresidente della Camera dei Deputati, quota Partito Democratico, Anna Scani, è stata alla Mezzia. C'è un evento che ha organizzato il PD nazionale, si chiama Filo Diretto, si va in giro a discutere di autonomia differenziata. Ovviamente per quel che riguarda le regioni del Mezzogiorno si parla di Sud, di come spendere nel miglior modo possibile ovviamente le risorse. E la Scani ragiona anche in questi termini ricordando che di fatto la politica quando diventa legge è naturalmente poi causa nel bene o nel male effetti sui cittadini. Anna Scani, vicepresidente della Camera dei Deputati a filo diretto, l'iniziativa nazionale del PD che gira l'Italia. La tappa calabrese voluta da Lidia Vescio, portavoce delle donne democratiche della provincia di Catanzaro, è cominciata con una conferenza stampa incentrata sull'autonomia differenziata. Se il Sud non cresce l'Italia si ferma, fa notare il segretario provinciale del PD di Catanzaro, Domenico Giampà, all'iniziativa anche Amalia Bruni ed Ernesto Alecci, consiglieri regionali della Calabria. È necessario che si mobiliti non solo il PD ma tutta la società delle regioni italiane e non è solo una questione che riguarda il Sud, riguarda tutto il Paese. Noi contrapponiamo l'idea di un filo che ricuce i territori fra di loro e anche i palazzi romani con le forze vive delle nostre città, dei nostri circoli, a chi invece vuole spaccare in 20 pezzi l'Italia. Questo fa l'autonomia differenziata, assegnando alle regioni materie come l'istruzione. Se ne parla molto poco, ma se passa questo provvedimento la scuola sarà un affare delle singole regioni. Insomma, il posto dove nascerai condizionerà anche la qualità della scuola nella quale andrai, le infrastrutture, la qualità degli insegnanti, i loro stipendi. E questo naturalmente significherà che sarà impossibile accedere a quell'ascensore sociale che la scuola dovrebbe rappresentare e quindi che non ci sarà più neppure il diritto costituzionalmente garantito allo studio, dopo aver visto quello che è successo con il diritto alla salute, che succederà ancora di più, perché questo stabilisce l'autonomia differenziata, che la sanità diventi ancora di più una questione parcellizzata e che quindi nascere in alcuni territori significherà avere meno diritto di altri, di avere cure di qualità. Ma se un partito si riconosce nell'unità nazionale che è scritta in Costituzione, come può votare l'autonomia differenziata? Cioè l'idea di venti stati di fatto differenti che non si riconoscono in nulla l'uno con l'altro e i quali di fatto dipendono dalla ricchezza dei propri cittadini e non si aiutano in nessun modo. Insomma, è il contrario di quello che partiti che invece appunto si proclamano patrioti dovrebbero fare. Credo che il Presidente Occhiuto farebbe bene ad alzare la voce con la sua Presidente del Consiglio perché si fermi questo progetto Spacca Italia. A Scania ha incontrato anche cittadini, dirigenti, militanti e amministratori del Partito Democratico per condividere idee, progetti e visioni per il futuro della politica al Sud. Un momento per discutere e riflettere su questioni di fondamentale importanza per la Calabria, una occasione per ricucire il rapporto che c'è e ci deve essere tra i luoghi dove la politica si fa legge con norme che hanno effetti sulla vita delle persone. Una nota di cronaca, un camion, un automezzo da cantiere, entrambi parzialmente danneggiati. Lo vediamo fra l'altro nelle immagini. Poi c'è questo pick up che avete appena visto, c'è un'auto, una Opel Corsa e c'è anche un furgone daily invece andati completamente distrutti. Questo è il bilancio di un incendio appiccato, scoppiato nella notte a Montauro Superiore. I vigili del fuoco del distaccamento di Soverato sono intervenuti per spegnere l'incendio, hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme e ovviamente anche capire la natura di questo rogo. I mezzi, come peraltro credo possiate capire da queste immagini, appunto erano parcheggiati nel piazzale di una azienda edile privata. Al termine delle operazioni di spegnimento, da verifiche effettuate congiuntamente ai carabinieri del Comando Compagnia di Soverato, non si esclude la matrice dolosa. Comunque gli accertamenti andranno avanti, per fortuna non si registrano danni a persone. Un'iniziativa che si chiama Open Day, quindi il giorno aperto dedicato anche al mondo delle imprese per cercare di capire se da questo territorio può nascere, anzi idee non ne mancano per la verità, ma farle diventare poi fatti è sempre un poco più complicato e sono iniziative che possono essere utili per questo percorso. Vediamo le imprese verso l'apertura a nuovi mercati esteri, agevolare i rapporti con aziende, consumatori, istituzioni operanti nelle altre nazioni, in modo da cogliere opportunità di sviluppo e commercio reali e remunerativi. Con questo obiettivo la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vipo e Valencia, con la collaborazione della propria azienda speciale, Promo Calabria Centro e del Punto Impresa Digitale, insieme a Promos Italia, propone nelle tre sedi territoriali provinciali l'Open Day per l'internazionalizzazione, presentando l'offerta dei servizi 2024 a sostegno delle attività di export. Noi siamo in questi giorni in Calabria, presso le Camera di Commercio di Catanzaro, Vipo e Crotone, proprio con l'obiettivo di presentare alle aziende calabresi le opportunità e i servizi che noi offriamo per aiutarle per fare business all'estero, sia quelle che già esportano e quindi vogliono conoscere nuovi mercati, sia quelle che invece non hanno ancora approcciato all'internazionalizzazione ma hanno le potenzialità per farlo. Quindi questi due giorni per noi è importante perché presentiamo servizi come attività di business matching con operatori esteri, lo sviluppo digitale per la parte di promozione all'estero, tutta una parte di progettazione internazionale con la possibilità di accedere a finanziamenti e bandi e una parte di formazione che per noi è molto importante per dare modo alle imprese di acquisire competenze e appunto attuare politiche di internazionalizzazione con maggiore consapevolezza. Ci sono molte imprese in Italia, quante realmente guardano i mercati esteri? Allora attualmente ci sono 4 milioni di imprese sul territorio nazionale, solo 136 mila attualmente esportano, quindi per noi oggi è molto importante essere qui, la collaborazione con la Camera di Commercio per aiutare tutte le imprese del territorio che ancora non esportano, stanno pensando di esportare effettivamente ad entrare in questi mercati internazionali, quindi per noi è importante essere qui oggi. Quali sono le opportunità che offrono i mercati esteri? Sono varie, molto spesso entrare nei mercati internazionali può sembrare complesso, in realtà per le aziende del territorio che sono in realtà ottimi, hanno una grande competitività sul mercato, è molto semplice entrare e noi siamo qua proprio per supportarli in questo. E sempre qui a Crotono c'è stato anche un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle che ha seguito per noi Luigi Saporito intorno al bonus, sapete insomma avrebbe dovuto, super bonus anzi 110, avrebbe dovuto mettere in movimento l'economia e per molti versi lo ha fatto, il PIL è cresciuto tantissimo, solo che adesso insomma le casse dello Stato devono reperire risorse per più di 100 miliardi di euro, una sorta di buco, conseguenza naturalmente di questa attività economicamente keynesiana, la chiamano quelli proprio bravi bravi. Però sentiamo che cosa pensano proprio i pentastellati di questo super bonus. Super bonus 110%, tutta la verità. Il libro di Agostino Santillo, membro del Parlamento e coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Movimento 5 Stelle, è stato presentato a Crotone nell'Aula Consiliare. Si è discusso della misura che ha permesso la realizzazione di lavori edili con un forte impatto ambientale, positivo e di sicurezza abitativa, che però è stato oggetto di critiche. I governi Draghi e Meloni hanno espresso riserve sul super bonus etichettandolo come problematico, consapevole però dell'urgenza del completamento dei lavori entro la scadenza del 2023 per soffrire degli incentivi già stanziati. Il super bonus ha dato uno slancio all'economia nel periodo pre-Covid, praticamente ha aumentato il fatturato delle imprese in maniera esorbitante. Si parla che il super bonus è impattato per 100 miliardi a livello nazionale e in Calabria ne ha impattato per circa 3 miliardi. Questo taglio che c'è stato ha bloccato praticamente tutta la filiera. I professionisti sono stati parte integrante di questo processo di attuazione dei bonus edilizi che il governo aveva messo in campo e poi progressivamente ha sempre di più ristretto il cerchio, addirittura cambiando le regole del gioco in corsa. Quindi molte imprese, molti professionisti, ma soprattutto molti cittadini si sono trovati chiusi in una morsa e imprigionati in questi lavori per i quali i crediti fiscali non sono stati più cedibili. È una misura sulla quale si è fatta un'inaccettabile polemica politica perdendo di vista quella che è la realtà dei fatti. Tante sono state le informazioni piuttosto false perché è una misura che è nata in un momento straordinario, la cui caratteristica era proprio la straordinarietà dell'incentivo. Onorevole, super bonus, ma la verità dove sta? La verità è che la misura strepitosa ha generato posti di lavoro, ha rilanciato l'economia, ha tutelato l'ambiente ed è stata affossata dal governo Draghi prima e poi dal governo Meloni. Oggi non c'è più, ma non ne possiamo fare a meno. Ce lo chiede l'ambiente. Sappiamo che ci sono dei costi sanitari di 1.500 euro cada uno in Europa, invece noi con un investimento che è molto inferiore anche ai 1.500 euro possiamo proteggere l'ambiente e la tutela dei cittadini. È un grande imbroglio degli italiani, un attacco fatto alla serietà del popolo italiano portato avanti, dicevo, prima da Draghi e adesso da Meloni. Purtroppo questo ha causato il blocco dei crediti d'imposta, sono ancora oggi bloccati e la Meloni che twittava il 17 settembre del 2022, poco prima delle elezioni, che avrebbe sbloccato i crediti e aiutato gli esodati del superbonus, non solo non ha fatto nulla ma ha peggiorato la situazione. Ci sono ancora più esodati e molti più crediti d'imposta incagliati. Tra il pubblico presente anche i professionisti e imprenditori con il sindaco Vincenzo Voci che ha portato il saluto dell'istituzione cittadina. Restiamo in provincia, però parliamo di donazione, anche di donazione di organi. C'è stata una bella iniziativa che si è tenuta a Cotronei. Un dibattito interessante intorno al concetto della prevenzione in medicina. A Cotronei, grazie all'attivismo dell'Associazione Italiana Donatori Organi, si è tenuta la giornata del donatore 2024. Perché donare gli organi? Il dono è vita. Ecco, dare una parte di se stessa per gli altri è un gesto nobilissimo e quindi da questo punto di vista lo stesso Papa Francesco dice che noi lasciamo qui le cose terrene le lasciamo. Quindi anche il nostro corpo che fa parte di queste cose è un invito a dare fin quanto è possibile ciò di cui uno può avere bisogno. Al centro del focus, nel corso della tavola rotonda moderata da Dionisio Gallo, medico dell'ospedale di Crotone, le malattie gastrointestinali. Di prevenzione, di agnosi e cura ha parlato Vincenzo Mazzucamari, medico chirurgo del Marrelli Hospital di Crotone. La prevenzione è fondamentale perché i tumori del colon retto sono per frequenza il terzo tumore di tutte le neoplasie. Addirittura è il secondo negli uomini dopo il tumore polmonare e il secondo nella donna dopo il tumore della mammella. Quindi è fondamentale fare prevenzione perché oggi con le moderne attrezzature che abbiamo siamo in condizione, abbiamo la possibilità di fare diagnosi precoce o addirittura fare prevenzione. Quindi evitare che si arrivi troppo tardi. Si riesce a diminuire di un 30-40% addirittura proprio il tumore in fase avanzata. Voi come struttura Marrelli Hospital avete ormai maturato un certo know-how, una certa conoscenza e soprattutto capacità di intervenire anche a livello chirurgico. Certo, noi con Marrelli abbiamo questa, in realtà abbiamo una possibilità che non ha, non dico nessuno, ma hanno pochissime strutture e cioè avere l'ultima generazione degli strumenti delle apprecchiature endoscopiche perché una parte dei tumori cosiddetti mised, cioè che vengono persi con le vecchie apprecchiature, da noi questo grazie a Dio non succede più perché abbiamo l'ultima generazione della percatura endoscopica che riusciamo a vedere lesioni minimali che durante una conoscopia vengono direttamente tolte e quel tumore, quella minima lesione purtroppo se non fosse stata vista da lì a dieci anni questa è la casistica, sarebbe diventato un tumore. Sull'importanza della donazione è intervenuto Franco Rizzuti, presidente regionale dell'Associazione Volontari Italiani Sangue. Da un lato la donazione degli organi, dall'altro quella del sangue, insomma sono due vere e proprie missioni. Sì, sono, io direi, due facce della stessa medaglia, operiamo entrambi nel campo della solidarietà, nel campo della donazione e per fortuna, come dimostra la serata di oggi, operiamo insieme perché ovviamente non possono esserci distinzioni fra l'uno e l'altro, fermo restando ovviamente i due tipi essenzialmente e completamente diversi di donazioni che si possono effettuare ma entrambi assolutamente indispensabili. Prima del convegno nella chiesa di San Nicola Vescovo è stata celebrata una santa messa per ricordare quanti negli anni hanno collaborato con l'Associazione. Adesso la pagina dello sport la apriamo con questo servizio. Un buon turno infrasettimanale per le due calabresi di B che si preparano al meglio il col morale alle stelle per il derby di domenica. Il Cosenza sfiora il colpaccio a Parma contro la capolista, il Catanzaro c'entra la terza vittoria in sei giornate allungando la serie positiva. I Silani chiudono sull'1-1 al tardini ma forse avrebbero potuto usare di più contro un Parma partito sparato e già in vantaggio dopo solo i 90 secondi grazie al gol di Ciprien. Tutto facile per la capolista e invece no perché il Cosenza tira fuori il carattere, va vicino al pari con l'ex Tutino, poi con Mars e anche con Antonucci. Fino a quando calò dalla bandierina metti in mezzo per la testa di Camporese che c'entra il bersaglio e prima del riposo il palo dice ancora Dino al colpo di testa di Tutino. Nella ripresa lo spettacolo non manca, le squadre provano a vincerlo, un palo per il rosso-blu, una traversa per i Ducali e poi il fischio finale con il Parma ridotto anche in 10 contro 11. Seconda vittoria di fila invece per il Catanzaro che al Ceravolo contro il Bari conquista la vittoria impreziosita da una perla di Van de Putt su punizione e dal gol del solito Iemmello. Un po' di nebbia ha fatto slittare l'inizio dei 15 minuti ma poi il Catanzaro ha decisamente comandato la gara. La punizione di Van de Putt, nonostante la nebbia, è da rivedere anche con tutti i replay. Il raddoppio di Iemmello è il classico gol del centravanti di categoria che a questo Catanzaro non può mancare, infatti senza di lui i giallorossi hanno infelato tre sconfitti di fila mentre adesso guardano con fiducia al proseguo della stagione e con un occhio sempre più intelligente alle prime posizioni. Mivarini si toglie una bella soddisfazione contro la sua ex squadra e continua ad essere il punto di riferimento del suo gruppo e domenica è derby contro il Cosenza, rinfrancato dal pari di Parma e con lo stadio Marulla che a breve andrà in sold out. Non parliamo solo di calcio ma anche di bocce perché insomma come sapete c'è una bocciofila qui a Crotone che ottiene risultati strepitosi. Seguiamo quest'altro servizio. Ha preso il via al campionato di serie B girone meridionale di bocce al quale partecipa la squadra della bocciofila città di Crotone intitolata Reucerio Laurenti. Nello scorso weekend si sono giocate le prime due giornate e la formazione crotonese è esordita nel proprio impianto sito nel quartiere San Francesco. Una nuova avventura quella che tutta la comunità del quartiere, gli appassionati, i familiari e gli sponsor provano a vivere con spensiera tezza con lo scopo di continuare a tenere in vita un polo di aggregazione sociale che esiste ormai da mezzo secolo. La squadra è una squadra di giovani che l'anno scorso ci hanno regalato veramente la soddisfazione di vincere il campionato e salire in serie B. Per noi già questa è una categoria veramente molto apprezzata dalla società perché è un risultato direi quasi inaspettato. Quest'anno le prospettive sono quelle, la squadra è quella dell'anno scorso e abbiamo fatto dei nuovi acquisti con la speranza in questo campionato di poterci salvare. Sicuramente ci sono società forti in questo girone, siamo quattro calabresi e due siciliani e per noi già, come dicevo prima, salvarci e aver vinto il campionato. Sicuramente sarà una scuola di vita anche per i tanti ragazzi e soprattutto per i tanti vostri soci che vi danno una mano in questa avventura. Beh sì, sicuramente i tanti ragazzi del quartiere, ma non solo. Diciamo che la bocciofa alla città di Crotone è ormai un punto di riferimento quasi per tutta la città perché qua vengono da tutte le parti della città. Il quartiere ne ha avuto beneficio e quindi io ringrazio sempre i soci fondatori per quello che hanno fatto e per quello che ci hanno lasciato. Non a caso noi quest'anno festeggiamo i 50 anni di attività. Questa società è nata nel 1974, quindi pensi un po' quanti ragazzi e quanti giovani sono passati da qua dentro e che sono stati indirizzati nella vita per comportarsi in un certo modo. Ci vuole indicare velocemente come si compone il vostro roster, la vostra squadra? Sì, la nostra squadra sono nove atleti e naturalmente la maggior parte è tutta giovane. L'unica persona di esperienza è il capitano Franco Riga che è quello che è un po' più grande rispetto a loro. È un giocatore navigato, ha vinto tantissime gare nazionali. Anche se i nostri ragazzi l'anno scorso, devo dire la verità, si sono comportati benissimo perché siamo stati la società più vincente in Calabria. Non a caso alla festa delle bocce calabresi l'anno scorso siamo stati premiati come la società più vincente. Abbiamo vinto anche un titolo italiano con Cristian Franco Papa, Cristian Piscitelli. Quindi vuol dire che è una società che sta crescendo, gli sponsor ci stanno credendo. Due vittorie per i bocciofili crotonesi grazie alle vittorie contro la bocciofila Santa Rita di Montalto per 7 a 1 e al netto successo sull'Olimpia Bagheria per 8 a 0. E sono le previsioni del tempo con Trevi Meteo. Ben trovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di giovedì. Possiamo notare il Mediterraneo ancora a fucina di sistemi depressionari con altro carico di piogge sull'Italia ma nel weekend questa perturbazione sulle isole britanniche in arrivo dall'Islanda si tufferà sul Mediterraneo e apporterà una nuova fase di piogge specie per il centro nord con nevicate domenica copiose e abbondanti sulle Alpi del Piemonte e della Valle d'Osta. Andiamo in sintesi a vedere però la previsione per la giornata di giovedì con il vortice di bassa pressione tra la Tunisia e la Sardegna. Ecco le piogge sulle regioni adriatiche, parte del sud, soprattutto diciamo qualche piovasco alternato a momenti soleggiati quindi un contesto di variabilità e poi dalla serata le piogge al nord che proseguiranno per tutta venerdì. In sintesi ecco la mappa dell'Italia, questa giornata molto variabile con rischio piogge temporali specie per le adriatiche e dal pomeriggio, altro carico di nuvole e precipitazioni al settentrione. Maggiore dettagli, approfondimenti anche per il weekend scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie per averci seguito le 14.26, non andate via, fra qualche minuto arriva Luigi Saporito sempre in diretta con Smart Sport. Noi se volete ci vediamo più tardi alle 5.30.